Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Amici di Radio Bruno siamo qui con la meravigliosa Nina Zilli Ciao Ale, ciao a tutti Ma che bello che sei tornata a trovarci Grazie, molto volentieri e sempre un piacere Piacere nostro Allora dimmi come stai prima di tutto Non bene, bene ma non benissimo come si dice di questi tempi No vabbè insomma in fondo sapevo cosa mi avrebbe aspettato Qui a Sanremo è sempre un gran casino Però poi anche qualcosa sempre di bellissimo da ricordare Insomma stare su quel palco e cantare dentro a quel teatro Per tutto quello che rappresenta il festival è sempre un grande piacere Un casino come dici tu che conosci bene Perché comunque sei al terzo festival però nella categoria big Esatto, nei big e poi ovviamente il mio esordio diciamo anche Non proprio discografico uscì un piccolo epipo È il primo disco vero sempre nei giovani a Sanremo E a volte ritornano A volte ritornano Senti ho letto una tua intervista dove dicevi che i tuoi ricordi più belli Sono un po' fantoziani Cioè mi vuoi spiegare cos'è successo? Ma perché io sono fantoziana in ogni mia manifestazione Quindi non so la prima volta Non sembra eh? No invece sì, invece sì La prima volta quasi mi ammazzo Quasi faccio un fosbur in faccia del noce che era davanti a me E io mi sono vista le mie mutande Davanti a tutta la pratea dell'Arison Quindi appena prima di iniziare a cantare Ricordo questa goccia di sudore Che proprio è sceso e ho detto oh mio Dio E non ho ancora iniziato, capito? Eh sì, va così Però no, poi ho tanti bellissimi ricordi Ovviamente le emozioni nel bene e nel male Tendono a rimanere Se ne vanno via difficilmente Ti abbiamo visto nella seconda serata Splendida più che mai con quell'abito Meraviglioso Tra l'altro io ero all'Arison Quindi ti ho fatto tante Instagram stories Ah vedi, non ho visto nulla Perché poi ho tutto impallato Quindi ho notifiche Sono notifiche che piano piano Vedo di smaltire Meno male che non hai fatto la scalinata Quindi No, esatto Grazie Volevo ringraziare ufficialmente Claudio Baglioni Per aver risparmiato la scala A noi cantanti No, perché Tu pensa che è anche quel pensiero lì Perché il tacco e la scala Non vanno d'accordo Insomma non è qualcosa A meno che non ci sia un bel maniglione Ma non sarebbe Un cavaliere che ti porti giù Un cavaliere che ti porti giù Esatto E quindi per fortuna almeno non c'è quella Quindi un problema in meno Però insomma è sempre bellissimo Ringraziamo allora ancora il direttore artistico Per aver levato l'eliminazione Anche per quello esatto Che in fondo vabbè era poi era sempre all'ultimo giorno Poi forse eliminarne anche uno Era più una crudeltà che altro E quindi sicuramente anche quello Insomma rilassa Per pur che quel palco rilassi un po' poco Direi proprio Che rilassa veramente Molto poco Molto molto poco Porniamo invece del brano che porti in gara È un brano insomma Toccante Un brano intenso Senza appartenere Com'è che è nata questa canzone È un brano che dedico a tutte le femmine del mondo Ovviamente È nata Cito sempre Vasco Rossi Cioè tutte le canzoni nascono nello stesso modo Cioè sono come i fiori Nascono dal sole Sono come i sogni E se tu non le scrivi in fretta Poi non tornano più È nata poi Mentre ero in tour Come sempre ovviamente Avendo delle scalette La scaletta fissa Devi sempre cantare le stesse canzoni Appena un po' di tempo Insomma Metto le mani O metto le cuffie Ascolto musica nuova Oppure la faccia Quindi ho scritto qualche canzone Quest'estate durante il tour Quando è nata lei Tra l'altro scritta Con Giordana Angi E Antonio Antonio Iammarino Ragazzi non riesco neanche più a parlare oggi Cioè ho delle difficoltà Le difficoltà motorie Cioè il cervello non riesce più a comunicare Dopo tutta la giornata stessa Ci credo Esatto E quindi non lo so Quando ho sentito questa canzone Mi sembrava poi perfetta per Sanremo Perché certe canzoni Magari nel disco hanno una vita Mentre se portarle su questo palco È diverso È più importante Insomma dato l'argomento Tenevo molto a questa canzone Credo che presentarla qui fosse Anche per il suono Per il modo di essere Di questa canzone È perfetto Un tema tra l'altro Sempre di grande attualità Certo Sempre di grande attualità E mi piace questo sempre Perché non è nata Per lo scandalo Weinstein Ma è nata perché Questa situazione è così E sono tantissimi anni Insomma Da amiche in arena Qualche anno fa Il mio primo disco Dedicato a tutte le femmine del mondo Ho scritto Sempre in quel disco Penelope Che tratta gli stessi argomenti Perché ovviamente Quando vivi In una società Così progredita Dal punto di vista tecnologico Ti aspetti anche Che poi ci sia Del progresso Almeno anche a livello Di empatia Tra gli esseri umani Invece I dati Per esempio Degli abusi Delle violenze Del femminicidio Rimangono gli stessi invariati Addirittura L'altro giorno Stavo aspettando Di fare un intervento Al Tg1 E c'è stata la notizia Dell'ennesimo femminicidio Una ragazza giovanissima Quindi è importante Continuare a portare avanti Questa campagna Anche di sensibilizzazione Di dire basta E di dire no Alla violenza Anche una volta Che i riflettori Di Hollywood Avranno finito Di fare il giro del mondo Quindi è per le donne Anche normali Che magari Fanno sentire la loro voce Ma non arrivano Perché ovviamente È molto più difficile Tenere tutto sotto controllo Soprattutto anche quando Appunto si vive Nella normalità E non sicuramente Con il faro Dell'attenzione mediatica Puntata addosso Come per esempio Alla parola Hollywood Insomma L'importanza E l'attenzione La si ritrova sempre Accesi di più riflettori Esatto Quindi È importante giorno dopo giorno Insomma Finché queste statistiche Voglio che diminuiscono Devono diminuire Complimenti quindi Anche per questo messaggio Che porti Tra l'altro Su un palco così prestigioso Sì sì Grazie Infatti Anche Michelle Ti ha sostenuto Continua a sostenere Ma lei poi anche da anni Infatti anche lei Che comunque è attenta Ovviamente Essendo femmine Si fa fatica A non supportare Questa causa E non voler sensibilizzare Sull'argomento Quindi io ci sono E anche gli uomini Ci devono essere Assolutamente sì Soprattutto loro Perché poi diciamolo Non è che le donne Si uccidono da sole E quindi vi prego Vi prego La sensibilizzazione È importantissima So che sembrano cose banali Siamo nel 2018 E uno Non dovrebbero neanche più esistere Queste cose Però purtroppo Purtroppo ci sono E quindi tutti insieme Bisogna continuare a lottare Per una vita migliore Giustamente Una vita dignitosa anche Bravissimo Nina Grazie Continuiamo a parlare ovviamente Di Sanremo Della serata Duetti Sì Sì Sarò con Sergio Cammariere Grazie Sergio Sono molto contenta Come è nata questa collaborazione Pensavo appunto A questa cosa che hai detto Bisogna ricordare anche Gli uomini Di essere solidali E quindi Cantare con un uomo Questa canzone Acquista Forse ancora Quella cosa Proprio Quella presa di coscienza Insomma Non siamo solo noi femmine Che ci battiamo Per questa cosa In più credo che La sensibilità La delicatezza Proprio artistica Del modo di essere Di Sergio Anche come persona Adesso che l'ho conosciuto Devo dire che Si rispecchia molto Poi nel suo modo Di essere musicale Come è normale che sia Per un cantautore Credo che appunto Questo suo animo sensibile Sia perfetto Insomma È l'uomo perfetto Per cantare questa canzone E noi non vediamo l'ora Di ascoltarvi insieme Sì Anch'io non vedo l'ora Grazie Nina Zilli Qui a Radio Bruno Grazie a voi Grazie a te Ale Ciao a tutti Radio Bruno In diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Gesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli E B per Banca